La possibilità del team Bresciano che rischia seriamente di passare in vantaggio al ventesimo quando sul tiro di Gionai è prodigioso Boccanero. La prima frazione è il calcio di rigore. Per quest'ultimo niente da fare, Boccanera si traveste da Spider-Man e Neutralito. No! 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 Oh! Un certo Fabio Spampatti, l'ex Alzano Cene tira bene ma Boccanera è superlativo e le spinge in coro, ovazione. Grazie a tutti.